Dannazione. Ah, puzza qua giù. C'è merda di Krill dappertutto. Basta. Portiamo a termine questa dannata missione prima che tornino i Krill. Ho capito. Dannazione. Ma il colpo? Ok. Non possiamo correre rischi con il risonatore. Cole, Baird, restate qui a controllare la merce. Non lo devi neanche ripetere. Vi chiamiamo quando tutto è a posto. Ci vediamo. Non lo devi neanche ripetere. Non lo devi neanche ripetere. Non lo so, amico. Fare qua sotto mi fa venire i prividi. Entriamo, piazziamo il risonatore e ci leviamo di mezzo. Facile. Lo dici tu. Bene. 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 dovete trovare una strada alternativa naturalmente ok ci muoviamo ci vediamo all'altro mondo lo preso uno Oh! Buoni battiter! Granata! Granata! E' su un bersaglio! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sì, d'accordo? D'accordo. Hai sentito? Il prossimo! D'accordo? 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 Ehi, ci spero anch'io. Contatto! Parti terra! Granata! Presto sarà giorno. Ok, ci resta poco tempo. Dobbiamo dividerci e trovare quella stazione. Spero di aver preso la strada giusta. Ehi, ci spero anch'io. Emico avvistato! Tornatene sottoterra! Tornatene sottoterra! Tornatene sottoterra! Tornatene uno! Tornata! Tornatene sottoterra! La cazada! Tornati! 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 Sì, 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 sì. 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 Spero anch'io... Vermi. Ho preso uno! Presto sarà giorno. Ok, ci resta poco tempo. Dobbiamo dividerci e trovare quella stazione. Spero di aver preso la strada giusta. Ehi, ci spero anch'io. Contatto! Il prossimo! Spero... Spero... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Quanto cavolo è grossa questa miniera? Dobbiamo essere vicini. Mate, ci siete sempre? Sì, purtroppo. Tornare. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Dobbiamo essere vicini. Faith, ci siete sempre? Sì, purtroppo. Sì, purtroppo. Va di terra! Bene! Granata! Quanto cavolo è grossa questa miniera? Dobbiamo essere vicini. Faith, ci siete sempre? Sì, purtroppo. Amico avistato! Granata! Grazie! Batti terra! Batti terra! Batti terra! No! 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 Lui o noi, non si torna indietro. Ehi, qui c'è un Gorxel! Cavolo, questo spiega il terremoto. Ok, ci muoviamo. Ok, ci muoviamo. Ok, ci muoviamo. Ci deve essere un modo per fermarlo. Ok, ci muoviamo. Ok, ci muoviamo. Ok, ci muoviamo. Ok, ci muoviamo. Ci muoviamo fatto incazzare. Marcos! Ah, appena in tempo. Già, in tempo per baciarmi il culo. Oh, cavolo, ce lo siamo perso. Tu, ce l'hai sempre il risonatore. Impacchettato e pronto all'uso. Che ore sono? E cinque un quarto. Presto sarà giorno. Muoviamoci. Wow. Guarda quanta roba. Cavolo! Ehi, Marcos. Quanto pensi che valga tutto quell'emulsio? Non riesco nemmeno a immaginarmelo. Quanto pensi che erano in una acquistazione? Sì, sì, sì. Finalmente. Eccola. Ok, ecco il piano. Tom, noi entriamo. Cole, Baird, andate a destra e copriteci. E soprattutto, mi raccomando, proteggete il risonatore. Capito? Capito. Esatto. Hai sentito? Che diavolo è quel suono? È solo il vento. Sì, come no. Il vento che porta i nemici. Quelli non sono droni. Ah, merda. Sembra che siano più potenti. Si chiamano guardi Eteron. Pensi che sappiano cosa facciamo? Beh, mica siamo qua per vendere bruscolini. Mi sa che si immaginano qualcosa. Ripulliamo la stazione. Avanti. Sì, sì, sì. Sì! 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 Hai tayo! No, no, no. 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 Sì, come no. Il vento che porta i nemici. Quelli non sono droni. Ah, merda. Sembra che siano più potenti. Si chiamano un parco etero. Pensi che sappiano cosa facciamo? Beh, mica siamo qua per vendere bruscolini. Mi sa che si immaginano qualcosa. Ripuliamo la stazione. Per il vento che era. Sopri... Corri... Noi! Non fa male dai! Sofie... 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 beh Servono munizioni. Oh, per me è andato. Le guardie sono piuttosto tigre e anche più veloci. Dici? Non l'avevo notato. Dici. Dici. Che stai tu, no. Che stai tu, no. Perlai! No, no. Non ci posso credere. Ce l'abbiamo fatta. Bel lavoro. Ok, torniamocene a casa, Baird. Stalle il risonatore. Noi rimettiamo in funzione l'ascensore. Noi rimettiamo in funzione. Baird, andiamo! Noi rimettiamo in funzione. Controllo, qui Delta. Ce l'abbiamo fatta. Il risonatore è stato attivato. Ce l'hai fatta, Marcus. Restate in attesa. Stanno arrivando i King Raven. Allora, torniamo alla base. Mi sa di sì. Bene. Perché? Sono sfinito. Cibo, amico. Cibo caldo. Tutto il giorno. Delta, brutte notizie. Non ha funzionato. Che cosa vuol dire non ha funzionato? Baird, andiamo! Cibo! 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 Alla rete! Ci servirebbero centinaia di risonatori per mappare i tunnel. E allora? Useremo questo invece. Che ne dici se lo uso per spaccarti i denti? Sta zitto e guarda. Guarda, quelli sono tunnel delle locuste, Fenix. Non mi sbaglio. E quando l'hai scoperto? È comparso sullo schermo quando l'ho manomesso. I file erano là. Fenix, rapporto! Ania, lo vedi anche tu? Affermativo. Il soldato Bert ha ragione. Quel geobot ci mostra più dati sui tunnel del risonatore. Oh, che schifo. Datemi la posizione da dove arrivano i dati. Signore, beh, vengono dall'Accademia della Barricata Est. Precisamente da casa di suo padre. E il padre di chi? Del sergente Fenix, signore. Credi di sapere come tornare a casa, Fenix? Sì, signore. Via la nuova rotta agli elicoteri, Trenette. I Delta vanno là. Subito! Ehi, sei quattro. Ti senti solo? Vuoi un appuntamento a 2-5? Scusa, tesoro. Non sei il mio tipo. Il radar segnala qualcosa più avanti. Il comando vuole che ci diamo una mossa, così possiamo andare da un'altra parte. Stiamo atterrando! Stiamo atterrando! Aspettate! Aspettate! DLZ è a rischio! Ripeto, è a rischio! Eccoli! Dobbiamo liberare la zona! Abbiamo! Avete, wheelsprent! Pas spettate! Quasi! Grazie a tutti